Ciao a tutti ragazzi, bentornati, un saluto, ora è il turno di Nash, l'uomo che ha perso tutto, uno dei personaggi penso più belli momentaneamente di Street Fighter, mia opinione. C'è un miracolo! 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 C'è un miracolo di tutti i nostri spaventati. A prima volta, pensiamo che sei già morto. Hai ricordato quello che ti ha fatto? Ho ricordato. Anche anche io ho perduto il gioco, e il prezzo è stato il mio vero. Non è riuscita per l'attività, Charlie. La ordine del comandante. C'è un'ordine. Quindi ti senti a fare per me? Non importa se sia il braccio in mezzo, o solo tu. Sto parlando di Shadalou e Bison. C'è cosa con te, Charlie? Cosa c'è quella calma e calma? Se volete solo, non arrivi. Perchè, Charlie, almeno... mi aiuto. Non, hai una famiglia per andare a casa. Sto parlando di loro. Devo farlo. Charlie... ... ... ... ... ... ... Allora finalmente ci troviamo, Bison. Bene, bene. L'apparenza dei bravi men di giustizia dell'americano militare. La finisce il record barrio. Il trigger è un po' particolare, cioè non è niente di che secondo me. Però il suo può farlo. E che forse è il caratteristico, non so che caso vale. No, tell me everything you know. Qual è la connessione tra te e i nostri militeri? Tutto bravi! Did they really betray me? Could they... Could they have... It wasn't only the high-ranking officers. Comrades worked against you as well, under the orders of Bison. And now? Currently you are considered missing in action. In fact, everybody thinks you were killed that day. And the world moved on. This must be so hard for me. My condolences. And now? It looks as if Bison is in another bid for world conquest. Do you know where Bison is? No, I'm sorry. I still don't know where he is. But I do have some other information. If you help me, I'll give you all the information I have. Would you be interested? Don't worry. Just give it some thought. For now, why don't you go out for a couple of days and see the world? You can see what you've missed and you might have a good time. You must be a member of Chattanooga. Now, where's Bison? Let me go! I'm in a hurry! Wow. Not something you see every day. Talk! Ha ha ha. Ooh, scary. You punk. That's psycho power. Assaulting a minor is illegal, you know. You better watch out. That power is... That doesn't matter. I'd be more worried about yourself. Aren't you supposed to be dead? Since you're oblivious, here's some free advice. Dead bodies generally don't move around or fight people. I wouldn't bet much on your body lasting too long. So, I wouldn't waste my time hanging around here if I were you. Wait a second, you little brat. Now I've got that fool Balrog. Just... Huh? Another from Shadaloo? Oh, I got caught. Uh... 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 Che brutto che sei madonna No, di là, stavo a capare Muori Non è vero che vuoi farle, badonna, non piace niente Non è vero che vuoi farle, non è vero che vuoi farle Non è vero che vuoi farle, non è vero che vuoi farle Considerando che la storia principale ha parecchio di Nash, se non mi ricordo male Molto bello come personaggio Ragazzi, anche per questo personaggio, per Nash è tutto L'uomo che ha perso tutto Il prossimo video sarà su Mr. Bison A presto ragazzi e buona giornata